Ogni volta che leggo il brano che ci viene proposto oggi come prima lettura, resto positivamente colpito dalla saggezza di questo dottore della legge, Gamaliele, il quale di fronte all'atteggiamento ostile che i suoi colleghi avevano nei confronti dei discepoli di Gesù, ribalta il punto di vista, facendo questa affermazione, dicendo Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti, finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda, il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati convincere da lui si dispersero. Ora, perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare, se infatti questo piano, quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio non riuscirete a distruggerli, non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. In poche parole, se tutto questo è opera di Dio, non saremo certo noi a poterlo fermare, dice Gamaliele. Se Cristo è un ciarlatano, lo suo messaggio e i suoi discepoli si disintegreranno, si consumeranno come fuoco di paglia, ma se lì invece ci fosse lo zampino di Dio, allora la cosa è destinata a durare nel tempo, ad avere solide radici, solide basi. Il tempo sembra aver dato ragione a Gamaliele. Ancora oggi, dopo 2023 anni, circa, si parla ancora di Gesù. Sono 360 milioni gli uomini e le donne che nel mondo credono in Lui e che tentano, a volte riuscendoci, a volte meno, di seguire il suo insegnamento e di coltivare un'amicizia con Lui. Possiamo, con leggerezza, affermare che siamo di fronte a 360 milioni di folli, di pazzi, di illusi? O forse la Chiesa e il cristianesimo sono frutto dell'amore di Dio, pur sapendo che nella storia della Chiesa vi sono state e vi sono anche delle ombre? Chissà cosa direbbe oggi Gamaliele, vedendo che ancora oggi vi sono cristiani ben più numerosi di quei pochi discepoli di Cristo che vi erano al suo tempo. A volte rischiamo di guardare alla Chiesa esclusivamente come un'istituzione puramente umana, ma ricordiamoci bene che è stata voluta e creata da Gesù. È iniziato con 12 uomini, è iniziato con 12 persone. Da lì siamo arrivati a 360 milioni e pensiamo a tutte le persone che nel corso della storia hanno creduto in Gesù, hanno rischiato addirittura la vita per Lui e rischiano ancora oggi la vita per Lui. Siamo davvero sicuri che la Chiesa sia solo un'invenzione umana per qualche centinaio di milioni di illusi? E se lì ci fosse davvero lo zampino di Dio? Vi lascio lì questa domanda. Buona giornata. Buona giornata.